andiamo a vedere quello che è successo nella giornata del campionato Serie A femminile ebay tutto è pronto per l'inizio del match, ultimo check da parte di Di Francesco, sta per iniziare il match primo pallone gestito dal Milan con Nadim che va all'indietro Thomas Ole Cross che arriva rispinto, un'altra possibilità Lenzini, secondo palo Girelli Cristiana Girelli con una meraviglia dopo cinque minuti e avanti la Juve Stokic la palla che resta in campo prende la corsia centrale, arriva la conclusione Topia un po' sorpresa qui la Juve Buonasera Caruso due tocchi per andare splendidamente da Thomas Cantore Palla di ritorno per Thomas Cantore Cross che arriva, secondo palo Girelli e poi Giuliani fa quello che può Caruso al secondo tentativo fa 2-0 Juve ma muove il Milan con un po' di fatica Sofia Stokic punta ancora su sinistro Stokic un altro passo accelera Lenzini prova a chiudere Stokic fino in fondo sull'esterno della rete ragazza di grande grandissima qualità la serba Thomas sulla corsa per Cantore Milano ha scoperto ancora una volta Cantore Giuliani salva la grande mette in corner costretto a ripartire da Sorelli Ije si gira guarda la porta Ije zona tiro Ije non calcia va sul sinistro eccola la conclusione però Magnan si allunga in corner si gira Sorelli mette un po' di pressione Cascarino cross col destro prolungato Giuliani salva il Milan non è finita Girelli prova al destro a giro Giuliani Thomas Caruso Cantore si accende la spia rossa di pericolo Cantore arriva al cross per il colpo di testa di Krumbeagle e ancora Giuliani va Caruso cross primo palo sbucato ma che mette alto come visto palla che diventa buona per Bonansia grandissimo controllo di Bonansia può far correre Cantore bandierina che resta giù Cantore uno contro uno con Giuliani Cantore palo Rubio Avila gigante Gia Rianna Caruso nello stretto dribbling palla in verticale a cercare Cantore sterza Cantore calcia altro gol gol meraviglioso della Juve una meraviglia di Sofia Cantore di Juventus ha segnato la numero nove Sofia Cantore Sofia Rubio Avila in buca per Nadime non passa l'idea ancora Milan Renzotti al cross palla che sbuca sotto porta Sofia ostacolata c'è Piero Magnan rubio Avila il cross colpo di testa in girata perdone Dompig messia Rubio Avila Nadime Dompig col mancino per Omaniane poi non riesce non riesce a spingere non è finita Dompig chiude tutto Caruso va Cesarini per Omaniane l'aspetta Rubio Avila Lehmann gira lì cerca Rosucci che la mette dentro per Lehmann che non trova la porta non c'è più tempo arriva la parola alla fine la Juve vince 3 a 0 scappa in classifica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.